Superati 30.000 casi nelle ultime 24 ore, record di tamponi e 153 vittime. In attesa delle nuove misure che saranno decise dopo la cabina di regge di domani è polemica sulla scuola. I presidi contrari all'ipotesi di allungare le vacanze natalizie. La Germania ha deciso di imporre dal 28 dicembre una serie di restrizioni per provare a fermare l'avanzata della variante Omicron. Sport senza pubblico e discoteche chiuse. Per il cancelliere Scholz non è tempo di festeggiare. Niente panico per Omicron, non è come nel 2020. Vaccinarsi però è un dovere patriottico, l'appello del presidente americano Biden. Via Libera la manovra in commissione al Senato. La legge di bilancio sale a circa 32 miliardi di euro. Da domani la fiducia a Palazzo Madama, poi da martedì prossimo il testo sarà in aula alla Camera per avere il Via Libera definitivo. entro il 31 dicembre per non rischiare l'esercizio provvisorio. Stesta vittoria nelle ultime otto partite. La Juventus continua la sua scalata in classifica. Ieri successo con il Cagliari per 2 a 0. Solo un pari per l'Atalanta con il Genoa. Bianconeri staccati di quattro punti dalla zona Champions. Oggi il resto del programma. L'Inter ospita il Torino, il Napoli lo Spezia, mentre il Milan è di scena in casa dell'Empoli. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Telegiornale della Sette. Dunque domani la cabina di regia ha convocato dal Premier Mario Draghi per fare il punto della situazione e decidere quali altre misure adottare per contenere la diffusione della pandemia. L'arrivo della variante Omicron ci obbliga alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi, ha detto il Premier Mario Draghi, mentre i dati continuano a salire. Oltretutto c'è anche un altissimo numero di tamponi, ma quello che preoccupa di più è che crescono sia il numero delle vittime che la pressione sulle strutture sanitarie. Oggi riunione straordinaria intanto dell'AIFA per il via libera al quinto vaccino della Novavax. Record di tamponi, oltre mille posti letto occupati nelle terapie intensive, più di 30.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore. L'avvicinamento verso il Natale e la corsa del virus spingono molti italiani a mettersi in coda davanti alle farmacie e ai drive-in per i test di controllo. Quasi 852.000 tamponi in 24 ore, un dato mai registrato in precedenza, che ha accertato oltre 30.000 nuovi casi di Covid-19, altro record per il 2021. Il tasso di positività è al 3,6%, mentre sale pericolosamente anche il numero delle vittime, sono 153. In una settimana i casi sono aumentati del 50%. Sette giorni fa, infatti, i contagi erano stati poco più di 20.000. Da sola la Lombardia registra oltre 8.000 nuovi contagi, quasi il doppio del Veneto. Seguono Piemonte, con più di 3.000 casi, poi Campania, Lazio ed Emilia Romagna. I ricoveri in terapia intensiva tornano a superare quota 1.000, in aumento deciso anche i pazienti che occupano i reparti Covid ordinari. Nelle prossime ore il Governo dovrà decidere le misure da attuare per frenare l'avanzata del virus. Tra le possibili novità si valutano il taglio a sei mesi della validità della certificazione verde, il tampone anche per i vaccinati che vogliono andare in stadi, concerti o discoteche, l'obbligo di mascherina all'aperto, l'allargamento ad altre categorie di lavoratori o settori dell'obbligo di vaccinazione, dopo sanitari, personale scolastico, forze di polizia e forze armate. Si fa strada l'ipotesi di allargarlo ad altre categorie di lavoratori, come ad esempio quelli a contatto con il pubblico. Possibili anche raccomandazioni a limitare il numero di persone in casa ed indicazioni per impedire festeggiamenti con assembramenti per la notte di San Silvestro. E tra i provvedimenti da adottare potrebbe esserci anche quello di allungare le vacanze di Natale nel caso in cui i contagi continuassero a salire ulteriormente, un'ipotesi rispetto alla quale i presidi sono contrari. Le vacanze natalizie che per gli studenti iniziano domani potrebbero durare più di 15 giorni. Decideremo tra una settimana, ha spiegato il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Dipenderà dal picco della variante Omicron. Sileri ha affermato che se dovessimo arrivare ai dati del Regno Unito con 100.000 contagi al giorno e la curva epidemiologica fosse fuori controllo con i soggetti più giovani e non vaccinati maggiormente colpiti, allora ritardare il rientro a scuola potrebbe consentire un rallentamento del virus e sui banchi si potrebbe tornare oltre la metà di gennaio. Le ultime settimane hanno visto svuotarsi le classi o per le quarantene o per la scelta di molti genitori di tenere a casa i figli per salvare il Natale e evitare i contagi. La situazione tra i banchi sta peggiorando, a dirlo sono i dati forniti dagli stessi istituti scolastici. Il presidente dell'associazione Presi di Giannelli ha spiegato che potrebbe essere già aumentato l'ultimo dato, cioè quello delle 10.000 classi in DAD su 400.000 negli ultimi giorni. Gli studenti contagiati in Italia sono però al momento poco più di 40.000, lo 0,5% del totale, quelli in isolamento, il 2,5% degli 8.300.000 studenti italiani, le classi in DAD il 3,5%. Ma sull'ipotesi di posticipare la riapertura delle scuole dopo il periodo natalizio i presidi hanno già espresso la loro contrarietà, la loro richiesta invece sarebbe quella di accelerare con le vaccinazioni soprattutto nella fascia sotto i 16 anni. E sul fronte della pandemia l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte, leggiamo insieme a un'agenzia che è appena arrivata, che una nuova tempesta sta arrivando in Europa appunto con la variante Omicron del Covid, che entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo del barato. A dirlo, è il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa e già alcuni paesi corrono ai ripari, primo tra tutti la Germania. Le nuove misure entreranno in vigore. Martedì 28 non è tempo di festeggiare, annuncia il cancelliere Olaf Scholz, e l'attesa stretta anti-Covid in Germania diventa realtà. Per Natale nulla cambia, ma in vista di Capodanno, i contatti possibili saranno ridotti a gruppi di 10 persone nel caso di vaccinati. Per i non vaccinati la riduzione sarà più drastica. Si potranno incontrare solo gli appartenenti ad un nucleo abitativo più due persone di un altro. Sono esclusi i minori di 14 anni. Come un anno fa duque in Germania, la prossima sarà una notte di San Silvestro senza grandi assembramenti, anche all'aperto, ed anche il campionato di calcio ne risentirà. Le partite si terranno a porte chiuse. Come è già anticipato, locali pubblici e discoteche chiuderanno. Chiusure che del resto erano già in vigore in alcune regioni. L'annuncio l'ha dato il cancelliere durante la conferenza stampa seguita al vertice tra il governo federale e i 16 Lander. L'obiettivo è evitare a tutti i costi la diffusione della variante Omicron, nonostante una lieve frenata dei contagi. Per il Comitato Tecnico Scientifico di Berlino, il Paese è nel pieno di una fase critica della pandemia. L'Istituto Robert Koch conta 23.500 nuovi casi giornalieri. Il tasso delle doppie vaccinazioni supera di poco il 70% della popolazione. La terza dose copre al momento il 32% di tedeschi. Per questo la parola d'ordine rilanciata ancora una volta da Scholz è vaccinare, vaccinare, vaccinare. E intanto il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, vara la campagna d'inverno contro il coronavirus negli Stati Uniti dove la variante Omicron dilaga. Biden ha lanciato un appello a tutti gli americani a vaccinarsi. definendolo un dovere patriottico. Biden ha allontanato i timori di lockdown. Niente panico, non è come nel 2020. Se non siete vaccinati dovete preoccuparvi perché rischiate il ricovero e la morte. Se invece avete fatto anche il terzo richiamo, siete molto più sicuri. La Casa Bianca, ha aggiunto il Presidente, adotta misuri per salvarvi la vita e non per controllarla. Biden ha annunciato l'invio di mille soldati negli ospedali insieme a medici e infermieri per far fronte all'impennata dei ricoveri e all'arrivo a gennaio di almeno 500 milioni di test rapidi. Intanto in Texas si registra la prima vittima americana della variante Omicron, un cinquantenne non vaccinato. E torniamo in Italia dove al termine di una lunghissima maratona è stato trovato l'accordo tra i partiti in commissione bilancio al Senato sulle proposte di modifica alla manovra. Il Senato varierà probabilmente la manovra economica domani. Infatti ieri il disegno di legge è arrivato in aula dopo il voto notturno in commissione. Mancano nove giorni al limite che non può essere superato quello del 31 dicembre se si vuole evitare l'esercizio provvisorio. Ma alla luce dell'intesa dei partiti di maggioranza di fronte al mancato istruzionismo da parte delle opposizioni la strada sembra in discesa. Palazzo Madama ricensierà il bilancio al massimo venerdì poi il 28 dicembre arriverà a Montecitorio per l'approvazione definitiva. Un calendario però che sarà rispettato solo se i deputati non apporteranno alcuna modifica al testo uscito da Palazzo Madama. Altrimenti ci sarebbe bisogno di un'altra lettura da parte dei senatori e si sforerebbe il limite della fine dell'anno. I tempi parlamentari comunque risultano molto compressi in occasione della discussione della votazione della legge più importante sul piano economico e finanziario e non mancano le critiche come quella del Presidente della Camera il pentastellato Roberto Fico che denuncia purtroppo anche quest'anno i tempi sono ridotti un problema sistemico spiega che si ripete da troppo tempo e che ha riguardato legislature e governi diversi. La manovra è stata approvata dal governo il 29 ottobre ed è approdata al Senato l'11 novembre poi sono seguite settimane di trattative e di tensioni tra i partiti di maggioranza che solo negli ultimi giorni hanno trovato soluzione ma attaccano anche le opposizioni da Fratelli d'Italia, Lolo Brigida, capogruppo alla Camera parla di Pantomima spettacolo indecoroso e il commento di Fratoianni sinistra italiana ma anche Italia Viva dalla maggioranza ha da ridire metodo sbagliato puntualizza Renzi se vogliamo superare il bicameralismo va fatta una riforma ma al di là delle critiche ormai il calendario del Senato e della Camera fa presumere che il bilancio del 2022 sarà legge anche ricorrendo al voto di fiducia. Misure contenute nella prossima manovra finanziaria da 32 miliardi quella che ha fatto discutere di più è sicuramente quella del super bonus al 110% ma vediamo quali sono anche le altre Niente tetto di sé a 25 mila euro per le villette unifamiliari come condizione per accedere al super bonus del 110% fermo restando l'obbligo di completare almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno del 2022 quello che per settimane è stato il principale ostacolo al proseguimento dell'iter di una manovra che ora vale 32 miliardi di euro è stato superato togliendo il paletto più contestato dai partiti ma nel mare magnum di emendamenti alla ex finanziaria approvati dalla Commissione Bilancio del Senato spiccano in particolare la proroga da 60 a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali emesse nel primo trimestre del 2022 l'innalzamento da 5 a 10 mila euro della soglia di spesa per il bonus mobili la conferma dello stop alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico a vantaggio di bar e ristoranti ma anche degli ambulanti per tutto il primo trimestre del 2022 l'abbassamento da 36 a 32 degli anni di contributi necessari ai dili e ceramisti per accedere alla peso sociale a 63 anni di età il rinvio al 2024 dell'entrata in vigore del regime IVA per il terzo settore norme che vanno ad aggiungersi alla riduzione da 5 a 4 delle aliquote IRPEF con annesso taglio della seconda e della terza a cuore dell'emendamento del governo in materia fiscale che conteneva tra le altre cose anche il taglio dell'IRAP per autonomi e ditte individuali e disposizioni in materia di bollette di duce e gas al cui calmieramento sono stati destinati 1,8 miliardi in più rispetto ai due originariamente previsti e che con riferimento alle fatture emesse tra gennaio e aprile 2022 potranno essere rateizzate in 10 mesi senza interessi passate in commissione anche le norme antidelocalizzazioni obbligo di comunicazione dei licenziamenti almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura elaborazione di un piano per limitare gli effetti derivanti dalla chiusura sui lavoratori e sanzioni in caso di inadempienza e una volta approvata la manovra economica la politica sarà tutta concentrata sulla partita del Quirinale domani c'è l'incontro del centro-destra per fare il punto della situazione anche gli altri partiti continuano a valutare ipotesi e scenari l'unica certezza è quella che il nuovo presidente della Repubblica dovrà essere eletto con la massima condivisione vertici e carte coperte sulla partita del Quirinale i partiti frenano sul Totonomi ma cercano una strategia se ne parla dopo le feste e il mantra ma intanto ieri si sono visti i leader di PD 5 Stelle e Leo Enrico Letta Giuseppe Conte e Roberto Speranza per fare il punto sulla legge di bilancio e la situazione sanitaria ma anche per concordare un patto di consultazione sul Quirinale per un presidente che dia garanzia di terzi età e sia una scelta largamente condivisa Letta ha convocato una riunione congiunta della direzione del Partito Democratico e dei gruppi parlamentari il 13 gennaio per impostare recito una nota del Nazareno il percorso di elezione del nuovo capo dello Stato e domani si incontrerà nella residenza romana di Silvio Berlusconi Villa Grande il centrodestra in versione allargata inclusi Coraggio Italia noi con l'Italia Udc all'ordine del giorno ufficialmente non c'è il colle ma il taglio delle tasse e i fondi europei ma anche questa iniziativa ha inserrati i ranghi propedeutico alla sfida per il Quirinale ne parleremo a gennaio assicura il segretario della Lega Matteo Salvini il leader di Forza Italia non cela le proprie ambizioni Letizia Moratti che aveva incontrato la presidente dei fratelli d'Italia Giorgia Meloni si chiama fuori io mi occupo di sanità in Lombardia il candidato per il centrodestra è Berlusconi il leader d'Italia viva Matteo Renzi avverte fino al 10 gennaio non succede niente chi chiacchiera ora non conta chi conta non chiacchiera per Sergio Mattarella a Firenze al Teatro del Maggio una nuova accoglienza trionfale con richiesta di bis dopo quella della prima alla scala per la cronaca emergono nuovi dettagli dall'ordinanza che ha portato in carcere il presunto assassino di Fabrizio Piscitelli l'ex capo ultrà della Lazio conosciuto come Diabolica e ucciso a Roma nell'agosto del 2019 il killer avrebbe preso 100.000 euro e gli sarebbe stato promesso un vitalizio di 4.000 euro al mese e questo quanto emergerebbe da alcune dichiarazioni fornite dall'ex compagna del presunto assassino testimone chiave della procura la pistola dell'omicidio diabolico Raul Esteban Calderon l'aveva sottratta all'ex compagna che la teneva nascosta assieme a lei l'aveva rapinata al titolare di questa gioielleria sulla casilina ad aprile 2019 quattro mesi prima del delitto al parco degli Acquedotti la lite al telefono tra i due ex conviventi è uno degli elementi che incastrano l'argentino ma Seteca è ammazzato Diabolic con la pistola mia lo sanno tutti grida la donna ora in località protetta dopo aver fornito un aiuto essenziale all'indagine guardando il video del delitto ha riconosciuto la maglietta ai pantaloncini del compagno il modo di correre e di muoversi ha descritto i tatuaggi sul polpaccio destro coperti da una benda quando Calderon è entrato in azione e la bandana verde che occultava la fronte stempiata e dunque agevolmente riconoscibile da eventuali testimoni l'ordinanza con cui il GIP di Roma ha mandato l'argentino a Rebibbia definendolo un killer professionale riporta anche le chiacchierate di Enrico Bennato coindagato di Calderon per l'omicidio di Torvajanica un anno fa per Enrico suo fratello Leandro Bennato è uno dei mandanti del delitto Piscitelli la caratura criminale di Diabolic viene descritta a fine ordinanza seguita dalle modalità dell'ascesa irresistibile nel mondo della malavita organizzata capitolina dai rapporti col clan senese dai patti di ferro con le batterie di napoletani e di albanesi Piscitelli gestiva da BOS le operazioni di recupero crediti gli associati lo consideravano l'unico soggetto deputato ad autorizzare le azioni violente nei confronti dei debitori e poi faceva mediazione di controversie criminali e gestiva in prima persona gli affari di riciclaggio aumentando a dismisura potere e carisma lo avevano esposto a malumori in sofferenza e gelosia scrive il GIP perfino i suoi sodali paventavano esplicitamente rischi per la sua incolumità Diablo appariva eccessivamente imprudente nell'aperta esibizione di una leadership criminale che schiacciava competitor di tutto rispetto Almeno 70 persone risultano disperse di una è stata confermata la morte dopo una frana avvenuta nella notte in una miniera di Giada nel nord della Birmania alle ricerche stanno partecipando circa 200 soccorritori alcuni a bordo di barche per cercare di recuperare possibili dispersi anche da un lago e adesso torniamo in Italia con lo sport il calcio con la diciannovesima giornata di Serie A ieri successo della Juventus sul Cagliari e solo un pari per l'Atalanta in casa del Genoa oggi il resto della giornata con la capolista Inter che ospita il Torino La Juventus prosegue la sua risalita ma quanta fatica contro il Cagliari il successo blindato solo nei minuti finali dopo aver fatto le prove con il palo colpito in apertura Moise Ken non ha fatto rimpiangere l'assenza di Paolo Di Bale insaccando di testa sul finire del primo tempo il bel cross di Bernardeschi ma la Juve vista nella ripresa si è subito spenta dopo il raddoppio sfiorato da Alexandro regalando campo a un Cagliari che recrimina per l'erroraccio sottoporta di Dalbert e per il prodigioso balzo con cui Scesni si è opposto alla potente incornata di João Pedro così all'83esimo su una ripartenza veloce proprio Bernardeschi ha piazzato il suo diagonale che Cragno ha solo potuto sfiorare tre punti importantissimi con cui i bianconeri si portano solitari al quinto posto a sole quattro lunghezze dall'Atlanta bloccata sullo 0-0 da un Genoa ben messo in campo da Shevchenko dopo l'unico acuto iniziale dell'intero incontro d'Uvan Sapata ben neutralizzato da Sirigu ha poi abbandonato il campo per un infortunio muscolare troppo poco per una squadra che nei restanti 84 minuti più recupero non ha creato ulteriori pericoli restando dopo oltre otto mesi all'asciutto in trasferta ma sul campionato torna ad incombere il problema Covid che ha costretto alla resa la Salernitana rimasta a casa su ordine dell'asli di competenza dopo la positività di un giocatore e due membri dello staff rinviata dunque a data da destinarsi la prevista partita in casa dell'Udinese e come una reazione a catena il coronavirus ha ammietuto vittime più celebri così mentre un inter senza alcun problema d'organico ma privo dello squalificato Barella ospiterà un Torino in ottima salute Napoli e Lazio dovranno invece rinunciare alle loro punte di diamante in signe e immobile già privo del lungo degente Osimen Luciano Spalletti dovrà rinunciare così al suo capitano nella sfida interna contro lo Spezia mentre Maurizio Sarri sarà costretto a ridisegnare l'attacco laziale nella delicata trasferta di Venezia problemi anche per Stefano Pioli dopo la dolorosa sconfitta col Napoli il suo Milan impegnato ad Empoli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic causa un sovraccarico al ginocchio in uno stadio olimpico esaurito nel suo 75% di capienza massima disponibile invece la Roma di José Mourinho reduce dal roboante successo di Bergamo ospiterà la Sampdoria con l'obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo ed era l'ultimo servizio per questa edizione ora le informazioni sul traffico con Valeria Colombo e poi il metodo di Paolo Sottocorona a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Gaia Tortora gli ospiti di oggi sono Silvia Sciorilli Borrelli Simona Malpezzi Roberto Battiston Martino Cervo Riccardo Molinari e Maurizio Ferraris e poi Coffee Break condotto da Andrea Pancani gli ospiti Vanda Ferro Riccardo Ricciardi Stefano Zurlo Alexandro Maria Tirelli è tutto il telegiornale torna alle 13.30 vi auguro una buona giornata grazie a tutti